Allora, dottor Roggero, quanto è importante fare risparmio energetico e voi in che modo cercate di raggiungere questi obiettivi? È senz'altro determinante e credo che sia opportuno precisare anche le parole che ha detto Pocanzi. Intanto si può lavorare bene sulla produzione di energia termica e poi magari approfondiamo, mentre sul discorso elettrico è un po' più complesso. E poi mi piacerebbe anche evidenziare il fatto che un progetto di teleriscaldamento o cogenerativo a servizio di una cittadina non deve essere una centrale termoelettrica creata solo per fare business, deve essere una centrale che è dimensionata esattamente in funzione del carico termico della cittadina e che viene esercita esattamente in funzione del carico termico. Ora, non è che il motore da nave accelera quando la signora Maria apre il rubinetto di casa per fare la doccia, perché c'è un accumulo inerziale che si frappone fra produzione e consumo, ma certamente la somma dei consumi di quella cittadina è quello che deve dettare la produzione di energia in centrale. Ora, sull'energia elettrica è un po' più complicato utilizzare energie alternative, sul termico invece è molto più semplice. Per esempio, adesso al di là ancora sfalci di potature o comunque bosco, che comunque ha bisogno di programmazione per poter essere attivato, ma noi vediamo per esempio Verzuolo che è dal 2000 che è attivo, noi dal 2000 al 2010 abbiamo scaldato Verzuolo esclusivamente dal punto di vista termico, esclusivamente con legna prodotta da una vicina segheria, che ha degli sfalci chiaramente di lavorazione, industriale del legno, che vengono macinati e automaticamente caricati in caldaia. Quindi i rifiuti in sostanza, perché vent'anni fa erano rifiuti? Sì, diciamo che c'era un'industria molto fiorente del pannello, come si chiama, del pannello truciolare vicino a Torino. Oggi è un prodotto, credo parzialmente superato dal punto di vista del mobile, diciamo dell'arredamento, non esiste più questa richiesta di macinato di legna per creare il pannello truciolare e invece si è sviluppato in alternativa un utilizzo energetico di questo scarto di lavorazione. Il risparmio energetico è senz'altro la cosa più facile da fare, più intelligente e uno si chiede anche un po' come mai non viene fatta, perché effettivamente, insomma sentivo Davide parlare, io sono molto vicino al loro pensiero, perché con il risparmio energetico potremmo evitare di acquistare probabilmente il 40-50% dell'energia fossile che stiamo consumando in Italia. Il vero problema energetico è quello, la dipendenza dall'estero, cioè noi non abbiamo combustibili, non abbiamo petrolio, non abbiamo gas, come dicevi giustamente. Per cui la prima cosa da fare è diminuire le importazioni. Dopodiché possiamo pensare anche a fare un mix, diciamo, di buone idee, buone pratiche, tra cui una e senz'altro anche quella di utilizzare delle energie rinnovabili del territorio, boschi, insomma. Quindi il risparmio energetico è determinante. Davide Bono, ne avevamo parlato anche in passato dell'idea del federalismo energetico, cioè del decentramento comunque in questo caso. Cosa ne pensi? Sicuramente potrebbe essere argomento politico odierno, visto che si parla tanto di federalismo, ultimamente di nuovo tornato in auge del federalismo demagnale. In ogni salsa, direi. Sì, in ogni salsa, visto che si parla di demagnale. A noi preoccupa un pochettino appunto che sia un federalismo sano, e non un federalismo deviato, diciamo, che metta sempre le mani nelle tasche degli italiani. Quindi sicuramente noi siamo per il decentramento, sia amministrativo che energetico, e addirittura noi saremo più di prossimità rispetto all'idea del terrescaldamento, nel senso che il singolo condominio, non parliamo di singolo cittadino ovviamente, o la singola casa, dovrebbe poter essere messa in grado di produrre energia e calore, energia elettrica e termica, con dei suoi proprie apparecchiature, dei suoi mezzi di sua proprietà, e mettere in rete il surplus. Quindi diventare, diciamo, un utente attivo, invece che passivo, dello scambio di energia. Perché al momento noi semplicemente veniamo interpallati per pagare la bolletta, che tende sempre a salire di più, come sappiamo, sia quella elettrica che quella termica, oscilla a seconda dei prezzi in borsa del greggio. E quindi diventare attivo aiuterebbe sicuramente a stare attenti ai propri consumi, perché a quel punto, se io, ad esempio adesso con le termovalvole, che vengono diffuse grazie agli obblighi anche europei, pago quanto consumo, il principio fondamentale europeo per ridurre l'inquinamento, sono attento veramente, quindi invece di aprire le finestre quando fa caldo, chiudo le valvole e quindi consumo di meno. E questo sarebbe fondamentale per tutto. Ovvio che sull'energia elettrica già è così, però sarebbe sicuramente più auspicabile anche che proprio il cittadino potesse vedere innanzitutto i propri consumi tarati su quelli che sono i costi giornalieri dell'energia elettrica, quindi come succede ad esempio in Germania, accendo gli elettrodomestici come la lavatrice, nel momento in cui la borsa italiana l'energia elettrica costa di meno e quindi nell'altro momento e quando è di più la riverso in rete. Quindi diventare proprio utenti attivi, punti nodali di una rete elettrica intelligente, che sicuramente è lo scopo fondamentale e fino a cui tendere, in cui dobbiamo andare oggi.